Le RSU di Teppe e le segreterie provinciali di Cigiele, Cisle, Will e UGL vanno all'attacco sullo stato della trattativa tra aziende e rappresentanze dei lavoratori e sulle relazioni sindacali in vista dei rinnovi del CDA di Teppe e di SMTP. Il presidente Rubini, hanno spiegato stamani in una conferenza stampa, travisa la realtà, criticando l'atteggiamento del sindacato. Rubini crede, disinformando, si legge in una nota, rivolgendosi direttamente ai lavoratori, criticando il sindacato che a suo dire dice solo no. In realtà l'unico risultato che, con un atteggiamento simile, Rubini rischia di ottenere, in parte ha già ottenuto, è un danno per l'azienda. Questo sindacato ha detto anche tanti sì, solo qualche mese fa quei sì hanno fatto risparmiare a Teppe 350.000 euro. In Teppe il reciproco riconoscimento, il rispetto per le controparti sono stati sempre i mattoni sui quali si sono costruiti non solo gli accordi aziendali, ma anche i legami tra le persone, al di là dei rispettivi e diversi ruoli. Siamo convinti, continua il sindacato, che per affrontare al meglio la crisi in cui verse il settore, basti pensare al mancato rinnovo del contratto nazionale, fermo al 2007, e i tagli previsti per i prossimi anni servano interlocutori che sappiano dialogare con i rappresentanti dei lavoratori e insieme si possano condividere scelte anche difficili.